Nils, capisci cosa hai fatto o non? Per essere sincero, no, ancora non posso credere. È incredibile. Un'incredibile raccoglione. Non hai mai guardato l'interno di te. Hai fatto la raccoglione di un pilota professionale. Sì. Stavo guardando la mia squadra, tutti i miei meccanici, i miei team boss, tutti. Stavano solo chiedendo di pulire, quindi non ho guardato. Quale era la strategia prima di iniziare la raccoglione? Cioè, hai pensato, hai pensato con i miei, di pulire, pulire, pulire o c'era un'altra strategia? No, la strategia era solo di pulire e di gestire le tire, perché si può calciare così rapidamente. E credo che abbiamo gestito molto bene. Ti raccontami qualcosa di tua storia. Perché non lo sappiamo molto. Ma quando ti stai iniziando? E l'anno scorso stai iniziando ancora bene, fino al anno. In 2021 ho vinto la città tedesca. Ok. E l'anno scorso stai iniziando a KZ class. E ora ci stai iniziando. E ora hai vinto il titolo mondiale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.